Oggi abbiamo il piacere di avere con noi Fabrizio Maiello, soprannominato anche il Maradona delle Carceri. Una storia straordinaria che parte da una grande passione per il calcio e varie vicissitudini che portano poi a scoprire la grande umanità e anche una grande spiritualità. Questa passione per il calcio che diventa da idolo, diciamo così, passa veramente anche un'ancora di salvezza. Tanto grazie per essere con noi Fabrizio. Io vi ringrazio a voi per l'invito, poi sono veramente contento di essere a Verona. Stamattina abbiamo incontrato una scuola con tanti ragazzi, è stato bello, bellissimo per me e anche adesso proseguire la giornata insieme a voi. E adesso la tua vita con la tua esperienza molto ricca e particolare ti sta portando in giro per l'Italia e non solo. Partiamo dall'inizio. Fabrizio Bambino, grande passione e grande capacità con il calcio, vero? Fabrizio Bambino, sì, un grande amore, veramente viscerale per questo pallone, per questa sfera magica che era il mio sogno, era quello che volevo fare. Volevo diventare un calciatore, neanche un calciatore, volevo essere un campione. Alla fine sono stato anche fortunato perché madre natura mi aveva dato questa dote, con i piedi, ci sapevo fare con questo pallone e questa è stata una fase bellissima della mia vita che io rivivo spesso nei miei ricordi. È durata brevemente, però era quella di un bambino innamorato di quel pallone e in quel pallone vedevo tutto, vedevo tutto il mio mondo, tutto quello che volevo essere, tutto quello che era quello che mi faceva star bene, ricorrere questo pallone. Ecco, la mia vita è stata bellissima all'inizio perché era un bambino felice che ricorreva un sogno e purtroppo questo sogno è durato poco perché... Si è inclinato qualcosa? Quanti anni avevi e cosa è successo? Allora, si è inclinato, io ho iniziato, comunque vivevo, sono nato a Limbiati, provincia di Monza Brianza, mio padre origine napoletana e mia madre di Ferrara. Ecco, io sono nato, voglio subito dire che sono nato in una famiglia di valori sani, principi sani, mio padre lavorava, facevano autisti, mia madre faceva la salta a casa ed era un bambino felice. Mia madre mi ha sempre portato a messa, non lo dico qua perché sono a telepace, è la verità, ero un bravo ragazzo, andavo a messa e ho iniziato a tirare i primi calci a pallone nell'oratorio come si usava a quei tempi. Mi ricordo che il primo mister, mio mister, era un don, si chiamava Don Franco, che non è che era tanto, poi dopo negli anni ho visto capace come mister, però era un prete, è stato il mio mister. Lì ho iniziato i primi calci a pallone, dopo di che sono passato nella squadra del paese che era Cesano Maderno e da lì a 13 anni sono andato nel Milan. Si è visto un po' nel Milan il tuo talento che cresceva, però da questa grande passione mi ha colpito il fatto che era diventato un po' un idolo, come si usa dire, tant'è che quando succede qualcosa che si mette tra te e il calcio va in crisi. Cos'è successo? È successo che per dire avevo puntato tutto sul fare il calciatore, per cui il mio primo errore è stato proprio nei banchi delle scuole, come quando ho detto a questi ragazzi che ho incontrato poche ore fa, io pensavo solo a diventare un calciatore e il primo errore è stato che non studiavo, avevo solo in mente il calcio, per cui non avevo un piano B, avevo puntato tutto sul calcio perché tutti dicevano che ero bravo, che ero un campione, io ci ho creduto a questa cosa, vedevo, mi chiamavano il brasiliano a quell'epoca perché facevo queste cose col pallone così e praticamente non avevo un piano B, non studiando perché la mia cosa era uscire da quella classe e andare subito nel campo dove passavo tutti i miei pomeriggi finché mia madre mi chiamava quando era buio per tornare a casa, sarei stato lì anche di notte. Ecco questa cosa mi ha portato a fare delle scelte che studiare non mi interessava, per cui puntavo solo sul calcio. C'è da premettere che era un ambiente, l'internate milanese in quegli anni, gli anni settanta, che era difficile, c'era parecchia criminalità, una criminalità diversa a quella di oggi, però faceva anche più paura, la criminalità era rapine, sequestri e c'era un mare di droga che arrivava a Milano, da Palermo c'era la mafia, c'era il clan dei catanesi e Paminonda, c'era Tulatello con le bische, c'era Valanzasca, la banda della Comasina, noi vivevamo ai margini di questa cosa. Quando andavo alle scuole medie io avevo il pallone che mi salvava perché dopo la scuola andavo ad allenarmi, parecchi miei compagni di classe dopo la scuola anche loro senza profitto andavano già a rubare e finivano in carcere. Io quando vedevo un banco vuoto che la maestra magari il giorno dopo diceva non c'è Salvatore, l'hanno arrestato, veramente ero spaventato per loro. Ma cosa è successo, cosa hanno fatto? Non credevo mai che ci poteva succedere una cosa così. Fabrizio allora succede un infortunio grave e quindi ti mette uno stop, non posso più essere un grande calciatore. Avresti dovuto subire un intervento per provare, però poi cosa succede? Nonostante le richieste dei tuoi genitori, fai l'intervento. Ho avuto questo grave infortunio quando ero nel Monza, avevo neanche 17 anni, praticamente mi sono rotto i legamenti crociati collaterali, il piede mi si è girato all'interno, ho visto subito che era qualcosa di grave, perché calci ne avevo già presi, quella volta mi sono reso conto da subito che era grave. Mi hanno portato all'ospedale all'epoca, tanti anni fa, era un infortunio, io comunque ero un ragazzo giovane, ma anche calciatori già fermati, si spaccavano il ginocchio così, finivano di giocare, perché anche adesso è l'infortunio più grave che fa un calciatore, però adesso ti mettono a posto, poi non si sa, 10 mesi, all'epoca la medicina di Samo era diversa. E' finito. Mi hanno detto, quando mi hanno detto in quel letto d'ospedale, sì ti operiamo ma non potrà più fare il calciatore, l'ho sentito da mio padre, mi si è spenta questa luce, io ero un bravo ragazzo, mai bevuto, mai fumato, non andavo neanche in discoteca, perché la domenica andavo a giocare a pallone, ero proprio solo per il calcio e non avevo un'idea di finire con i miei amici, che per dire puntavano tutto anche su di me, per loro ero il loro idolo. Io quando mi hanno detto non posso più giocare a pallone mi si è spenta la luce e ho detto cosa mi opero a fare, mi operavano ma non potevo più giocare, a quel punto non ho accettato, per me era una sconfitta, era come vedermi scippato il sogno della mia vita, l'ho vista come un'ingiustizia, sì ero giovane, non so che ho sbagliato, non ero pronta a questa sconfitta, l'ho presa proprio male, non l'ho accettato e ho reagito male. Ti sei lasciato andare, quindi in che giri sei entrato? Sono andato quando non ho voluto farmi operare, testardamente, e quando mio padre dopo dei giorni che mi diceva ti deve operare così, e io guardavo questo soffitto, ero in depressione, da come ero, avevo il mondo in mano, da come un momento ero buttato su quel divano, guardavo il soffitto e non reagivo, e mi hanno detto o ti operi o vai fuori di casa, io me ne sono andato di casa, dove sono andato con queste stampelle? Dai miei amici che erano lì vicino, e ho cominciato per non pensare il dolore e tutto quanto, sono andato insieme a loro che già facevano crimini, rapine, erano nella droga e anch'io sono diventato come loro, in poco tempo, mi sono riempito di droga, io non ho mai fatto niente, e ho cominciato, appena il ginocchio ha cominciato a risistemarsi, a fare i reati con loro, perché della mia vita non mi interessava più niente, volevo morire, volevo distruggermi, ce l'ho fatta purtroppo. Fabrizio, allora, non del tutto perché oggi sei qua a raccontarci delle belle storie, dobbiamo fare un po' i salti perché diciamo la tua vita è ricca e ci sarebbero tante cose da dire, quindi sei passato dal vivere un po' questa criminalità a finire in carcere, e ti ha cambiato perché, cosa è successo? Finisco in carcere, che avevo 18 anni e mezzo, finisco proprio nel carcere di Monza, che per ironia della sorte ci passavo tre volte alla settimana con mio padre, perché il campo, il vecchio Sada, lo stadio del Monza era vicino, e delle volte mio padre diceva ti rendi conto quella gente che l'ha dietro alle sbarre? Io mi arrabbiavo, perché mi dice queste cose, a me cosa mi interessa di questi, gli dicevo, hanno sbagliato, è giusto, io sono un altro mondo, eravamo vicini in linea d'arte, ma per me era come chilometri lontano, io quando sentivo in giornate belle di primavera così sentivo alle grida delle carceri, arrivavano nel campo di calcio, ma io non le sentivo, per me ero chilometri lontano, cosa è successo? Che a 18 anni sono finito lì, perché avevo fatto delle rapine, avevo sparato dentro un bar, perché avevano parlato male, insomma ho fatto degli errori, mi sono trovato in quel carcere, e lì, anche lì ho avuto un altro tracollo, perché sentimi chiuso lì, quando sentivo che annunciavano le formazioni la domenica, e sentivo arrivare in quella cella, io chiuso lì, non capivo cosa mi è successo in un attimo, un vortice così, e sono sprofondato, sempre nel peggio, purtroppo nel carcere per sopravvivere da ragazzo così, ero un ragazzo che non ero nato per fare il criminale, ma avevo una rabbia così forte dentro me stesso, e una forza comunque, perché ero un ragazzo allenato che non mi fermavo davanti a niente, non avevo paura, e questo mi ha portato a peggiorare nel carcere, perché ho conosciuto gente sempre peggio di me, che mi ha messo in giri sempre peggiori, fino a quando la mia vita è cambiata, quando ho toccato il fondo e sono finito nel manicomio criminale giudiziario. Come sei finito lì e poi perché ti ha aiutato a ripartire, paradossalmente questa realtà molto pesante? Ecco, perché sono finito lì e perché volevo cercare, perché all'epoca i manicomi criminali, i vecchi OPG che sono stati chiusi nel 2016, erano anche quasi una scappatoia per dei criminali, era quasi una scappatoia per dei criminali incalliti, per evitare l'ergastolo, siccome noi potevamo fare qualsiasi reato, eravamo armati, drogati, non avevamo niente da perdere, lati tanti, e allora questa vita ti poteva portare a commettere anche reati peggiori, e c'erano questi manicomi criminali che azzerravano questa cosa, non c'erano l'ergastolo di 30 anni, c'erano 10 anni di proscioglimento, il massimo, o 2, 5 o 10 anni di proscioglimento. Poi era un salto nel vuoto, perché i manicomi criminali erano un inferno in terra, dove venivamo sedati mattina, mezzogiorno e sera, terapie pesanti, e poi punture e letti di coercizioni. Ecco, io non sono cambiato subito, quando sono arrivato in questo posto il carcere è stato pesante, ma forse io dovevo soffrire di più per cambiare, perché il carcere mi ha solo peggiorato. Quando sono finito dentro il manicomio criminale, mi sono guardato intorno, soprattutto quando mi hanno legato, coercito, quando ti spogliavano, c'erano queste stanze insonorizzate che quando un internato era pericoloso, dava segni di squilibrio, comunque lo psichiatra dava l'ordine, andava coercito, noi dicevamo andava legato, tu venivi legato di forza, con le buone e con le cattive, spogliato completamente, e messo nudo in un letto che era con dei bulloni fissati in una stanza dove non c'era niente, insonorizzata, e nudo, con delle cinghie ai polsi, alle caviglie, basta, fissavi un punto nel soffitto, e poi lì ho detto guarda io dove sono finito, perché ho visto l'umiliazione di una persona che non poteva più mangiare da sola, non poteva più bere, mi davano da bere con una cannuccia, dovevo fare i miei bisogni addosso, il giorno dopo mi pulivano, ecco l'umiliazione, ho detto adesso da qui non si torna più indietro, e tutto sembrava perduto, invece poi è successo un miracolo, però quella sofferenza, quell'essere messo come Gesù Cristo in croce, io non ero Gesù Cristo in croce, mi ha fatto capire quanto era importante anche mettere un piede a terra, poter camminare, poter arrivare a bere da solo, quando invece io prima volevo fare solo il calciatore. E facciamo ancora qui un piccolo salto, raccontaci brevemente un episodio toccante per il quale diciamo ci sono anche i titoli dei giornali, hai tentato di rapire Zola, l'ex calciatore sardo, raccontaci brevemente questo. Nel 1994, perché da un permesso premio sempre dal manicomio criminale di Reggio Emilia, perché non sono cambiato subito, ci ho messo tanto tempo e degli incontri, vado da un permesso non rientro, per cui sono un latitante e c'è questa idea di sequestrare Gianfranco Zola, che all'epoca giocava nel Parma di Calisto Tanzi ed era alla punta di diamante di quella squadra. Ecco io sinceramente, rapire un calciatore che comunque stimavo, anche perché io volevo essere tra virgolette come Zola, non mandava, però questa cosa, io ero uscito, mi servivano soldi, ero latitante e tutto, questa cosa era già stata organizzata da altre persone e alla fine mi sono fatto tanto un sequestro lampo, 24-48 ore, tanzi c'è da subito i soldi, facciamolo. Ero titubante però poi alla fine ho detto vabbè speriamolo, facciamo. Ma poi come è stato detto tante volte, quando è stato proprio il momento di rapire Gianfranco Zola, che noi lo seguivamo quando lui abitava a Parma, perché giocava nel Parma, su questa autostrada lui ha imboccato l'autostrada e noi eravamo dietro con due macchine, io guidavo una macchina rubata con il mio compice, c'era un'altra macchina davanti con altri due, sempre armati con la macchina rubata e Zola era in mezzo, lui non si rendeva conto, noi stavamo aspettando solo che Zola usciva dall'autostrada per poter trovare un posto per noi buono fermarlo, scenderlo e portarcelo via. Però il destino ha voluto che Zola si è fermato per fortuna a un distributore a far benzina, io a quel punto la macchina davanti si è fermata più avanti, aspetta, ma io ero dietro e mi sono accodato, per cui mi sono fermato. Zola in quel momento che era un personaggio conosciuto e tutto quanto è sceso a parlare col benzinario che si vede che l'ha conosciuto, per cui hanno perso tempo, io non potevamo stare su questa macchina rubata e tutto quanto così armati, allora perdendo quel tempo ho fatto finto di scendere, guardavo intorno e in quel momento che perdevo tempo, Gianfranco Zola si è reso conto che c'erano queste due persone, è lì che ho cambiato idea, quando lui ci ha avvicinato a noi ha detto ciao ragazzi volete un autografo, in quel momento sempre quella... un quarto pulito diciamo di bontati a trattenimento del male che volevi fare. In quegli occhi lì ho rivisto un ragazzo che ero anch'io felice quando giocavo a pallone, quello che avrei voluto essere stato e invece i miei occhi in quel momento erano pieni di male, di criminale, stavo scappando e con quegli occhi lì ho detto ma cosa sto facendo, io non ce la faccio, mi sono fatto fare un autografo, l'ho fatto andare via. Ah invece che la rapina o comunque che il sequestro, un'altra persona molto importante per la tua vita, una delle più importanti penso sia quel Giovanni che hai incontrato nel manicomio, raccontaci chi era e cosa sei stato anche tu per lui e cosa è stato lui per te. Giovanni è stato fondamentale perché Giovanni allora io poi dopo questo episodio di Zola rientro per altri reati nel manicomio criminale e la mia vita cambia, mia madre diceva miracolosamente, io non so se è miracolo, perché lei era molto di chiesa nel 1997 quando succedono due cose, perché io comunque ero perso, non avevo uno scopo, non volevo cambiare sostanzialmente. Due cose, arriva la WISP, l'Unione Italiana Sport per Tutti con una gara podistica che si chiamava Vivi Città, tutte le primavere vengono fatte sia in tante città d'Italia, credo in 70 città d'Italia anche nelle case circondariali. Questa corsa nelle case circondariali naturalmente si faceva dentro all'interno del perimetro della struttura penitenziaria ed era lungo a un chilometro con quattro volati perché era niente così. Quando mi hanno detto di proporre di fare questa corsa, io alla direttrice dell'OPG di Reggio Emilia, la dottoressa Valeria Calevro, ho detto ma ascolti cosa corro a fare? Lei mi ridia un pallone e io è un posto dove allenarmi perché io devo avere un pallone e io quel chilometro lo faccio palleggiando senza che il pallone cada per terra. Ecco, quella donna che io devo molto, voi magari sempre una cosa banale, ma lei ha avuto questa fiducia di ridarmi un pallone che è stata la mia medicina perché quel pallone mi ha detto io te lo ridò, un mio pallone personale come quando ero un ragazzino che io dormivo col pallone, la notte io dormivo col pallone sotto le lenzuola, che mia madre diceva ma è tutto sporco perché lo porto? Perché lo volevo toccare di notte coi piedi. La direttrice ha capito come poteva essere, certo nessuno pensava che succedeva tutto quello che è successo, però lei ha creduto, dice va bene ti do un pallone per te perché lo deve avere, e ti do un buco che era lungo 24 passi, un cortile poco più grande di questa stanza dove io vedevo un pezzo di cielo azzurro quando ero fortunato che c'era il sole, altrimenti era grigio, non c'era niente, il muro diceva ma avevo quel pallone, era lungo 24 passi e io 24 passi contavo palleggiando, 10 giri 240 passi, 20 giri 480 e mi allenavo ogni giorno così e per tanti anni, dal 1998 tutti gli anni che c'era la manifestazione ho battuto un record, nel 1998 ho fatto un chilometro palleggiando con i piedi destra e sinistra a marcia avanti, nel 1999 a marcia indietro con i piedi, nel 2000 palleggiando di testa a marcia indietro tutte di testa, senza che il pallone cadeva mai e nel 2001 l'ho fatto 5 km con la palla in equilibrio stabile sulla fronte e l'anno dopo in un permesso premio ho palleggiato per tutta la città, ecco queste cose che sono andate con delle piccole righe sui giornali sono andate a finire, questo matto che batteva questi record, ma questa è la cosa sportiva, e da lì il nome Maradona delle Carceri, però questo non è niente rispetto a quello che mi ha cambiato veramente, perché sempre in quel momento nel 1997 arriva Giovanni, Giovanni Marione, Giovanni Marione era una persona che non era un criminale come me, perché negli vecchi manicomi criminali o c'erano personaggi veramente di criminalità organizzata, pericolosi, all'epoca c'era gente della banda della Magliana, che adesso vedono i ragazzi docufilm, i film che fanno le serie tv, c'erano stragisti di Irina, mafiosi che cercavano di avere delle attenuanti per uscire prima, e poi però c'erano anche delle persone che erano nate così, che non avevano colpe, erano nate con dei problemi psichiatrici che magari per una spinta, perché hanno fatto un po' di confusione, ha alzato la voce e li portavano nei manicomi criminali, e poi da lì non uscivano neanche più, perché c'era nel manicomo due anni, cinque, dieci anni, poi se eri guarito uscivi, altrimenti c'era questa famosa cosa che veniva chiamato l'ergastolo bianco, veniva prorogato all'infinito e tu potevi non uscire mai più. E lì hai conosciuto questo Giovanni, perché lo prendi in simpatia, diciamo cosa fai per lui? Perché Giovanni arriva a tre celle da me, e io sento una persona che piange, grida tutto il giorno, che per dire sta male, che puzza, fa tutti i suoi bisogni addosso e tutto quanto, ma soprattutto vedo che c'è tanta gente come me, che invece di andare da Giovanni a aiutarlo, va da Giovanni, gli tira il pane, la frutta, insomma lo bullizza, perché non è solo per il giovane, neanche succedeva così, con i più deboli se la prendeva, io in questo momento qua senti quelle urla così disperate, tutto non ce l'ho più fatto, perché non mi sentivo di essere, sì ero quello che ero, un criminale, tutto il peggiore delle cose, però non lo so cosa ho avuto, sono andato io dal dottore, lo voglio aiutare, sono andato dal dottore e gli ho detto voglio aiutare questa persona, mi ricordo questo dottore, si chiama Mazzoni, mi ha detto guarda Fabrizio, ma sei sicuro, tu non stai neanche bene, Giovanni c'ha tre mesi di vita, perché non mangia più, era magro come uno scheletro, aveva tutte le piaghe da decubito e non si voleva far aiutare, perché era spaventato, Giovanni diceva che era figlio di Asenavore e nipote di Johnson, sapete perché era venuto lì? Perché lui era nato con queste disabilità, era sempre stato ricoverato in strutture civili di manicomi, non aveva nessuno in famiglia, aveva dato una spinta a un suo compagno di stanza, questo signore aveva 80 anni, è caduto, ha picciato la testa, è diventato, è morto, Giovanni l'ha portato all'OPG di Reggio, ma Giovanni pensava di essere ancora Udine, Giovanni diceva che era figlio di Asenavore e nipote di Johnson. E il bello è che prendendoti cura di lui siete stati bene in due, cosa è successo? Lì aveva tre mesi di vita, ma è andato avanti oltre. È andato avanti perché io l'ho preso e io non sapevo che curando le sue ferite, io mi stavo curando me stesso che non volevo cambiare, io ho cominciato a imboccarlo, a dargli l'ossigeno perché Giovanni non respirava quando stava male, era come un bambino, non fiatava, non diceva sto male, non fiatava più. Io ho cambiato pannoloni, non mi vergogno a dirlo, è la cosa più che mi fa onore, quando tutti mi dicevano io ho cambiato pannoloni a Giovanni per anni, non mi sono mai vergognato, quando mi dicevano quelli, uno come te si mette a cambiare i pannoloni, non ti sporchi le mani, io le mani me le sono sporcate fuori, faccio quello per anni, giorni e notte, non dormivo più per Giovanni, perché Giovanni non aveva nessuno e in quel momento mi trovavo che era morto mio padre, era morta mia moglie, mia madre non volevo che veniva a trovarmi in un manicomio, mio fratello era solo, ero solo io, solo Giovanni e un pallone, però da lì siamo ripartiti con una storia che è stata clamorosa, perché io ogni anno battevo un record e Giovanni non moriva, Giovanni sembrava sempre che era il filo della morte, ma alla fine rimaneva sempre in piedi e Giovanni è uscito, io ho iniziato a scrivere in quei tempi, non so neanche perché, dei diari che non ho mai scritto in tutti questi anni di carcere, io ho fatto 24 anni della mia vita tra carcere e manicomi, quando ho preso Giovanni ho cominciato, il pallone ha cominciato a scrivere dei diari, da quei diari è nato un libro che è diventato un testo, che è questo libro che abbiamo qui, che poi faremo anche vedere, nel carcere dei matti delinquenti, storia di Fabrizio Maiello. Tratto dai miei diari, scritto da questa professoressa Franca Garreffa, una sociologa che studia la devianza giovanile all'Università della Calabria, è diventato un libro didattico, dove spiega, io sono ignorante perché ripeto alla scuola così, i neuroni specchi, io non so gli loro in specchio, ho letto lì, ma io qualcosa ho visto negli occhi di Giovanni, qualcosa che mi ha fatto cambiare, io ho voluto, non mi sono mai pentito con la giustizia perché mi sembrava che io non volevo fare la spia, non volevo fare così, io quel giorno che ho incontrato Giovanni ho voluto cambiare, l'ho fatto per me stesso, volevo dimostrare a me che non ero proprio così una persona schifosa come ero diventato, volevo far vedere che qualcosa di buono c'era anche su di me, solo che io per me non facevo più niente, ma per una persona che per me non meritava ho fatto tutto, è stato il gesto più coraggioso che ho fatto in tutta la vita. E questo diciamo ha tanto da insegnare anche a tutti noi senza arrivare a storie così estreme, sta per giungere un po' al termine questa intervista, oggi chi è Fabrizio, da quanto tempo sei fuori e cosa vivi? Ti butto lì un nome anche Moreno Buccianti. Ecco lì, allora io ormai sono più di 15 anni che sono uscito dall'OPG, ho un lavoro che mi hanno trovato proprio, faccio il giardiniere, è una cooperativa sociale e ho la mia compagna perché poi in questa cosa va detto che oltre al miracolo di Giovanni io ho conosciuto un'infermiera che mi ha visto fare del bene a Giovanni ed è diventata la mia compagna. Questa è una storia che adesso è uscito un film, il mondo cupido, sempre che è una favola così, ma è successo davvero. Facendo del bene a Giovanni si è innamorato una persona, io sono una persona che era là per curarmi, lei si chiama Daniela e sono stati fondamentali. Io ho fatto del bene senza pensare che poteva succedere tutto questo, così l'ho fatto in un momento che anche stavo male, ho ricevuto tutte queste cose, anche l'amore di una donna che io gli ho detto ma come hai fatto a innamorarti di uno come me? Quando il nostro amore è nato là dentro in un manico. Lei mi ha detto io ho visto cosa facevi per Giovanni. Quello che hai fatto per salvare la vita a questa apertura. E quindi come si può dire l'amore, l'amore vince e ha vinto anche in questo caso. Tu stai indossando una maglietta azzurra e nel logo si dice nazionale italiana sacerdoti. Cosa è questo e perché ti coinvolge molto oggi? Allora questa cosa è un'altra che è sempre anche lì un incastro del destino. Succede che io dopo tutti questi cinque record battuti nel manicomio criminale continuo a battere dei record e li batto ogni 8 di settembre, la natività della Madonna, a Reggio Emilia palleggiando per dei chilometri nel centro storico di questa città, in diretta con la televisione. Allora succede che questo faccio nel 2021 con la maglia della nazionale di Mancini che aveva appena vinto gli europei faccio 1200 metri in questo centro storico senza che il pallone mi cada, sempre ripreso non più dentro il manicomio con la diretta della televisione. L'anno dopo nel 2022 lo faccio con la maglia di Don Ciotti di Libera perché faccio anche parte di queste cose così. E succede che nel 2023 l'anno scorso io incontro Moreno Buccianti perché a Follonica mi invitano, lui ha fondato questa nazionale di sacerdoti nel 2005, sacerdoti vedi con la passione, perché io non ci credevo. Che anche loro hanno la passione del calcio. Passione del calcio perché tanti nascevano negli oratori ed è una squadra importante perché c'è tantissimi sacerdoti e vanno a fare più di 500 partite in tutto il mondo. Anni fa l'hanno fatta a Israele, una cosa bellissima negli Stati, portando attraverso il calcio un messaggio di speranza, di fratellanza, facendo della beneficenza, tirandosi via le loro vestite da prete e indossando così. Ed è una cosa, mi hanno invitato a fare un evento a Follonica di foot golf per la raccolta fondi del cancro. Ecco io in quell'occasione gli ho detto a Moreno, scolta io l'8 di settembre ho questa cosa qua, cosa ne dici se mi metto la maglia della nazionale e tentiamo di fare due chilometri perché ogni anno aumenta le cose. Lui mi ha detto va bene, abbiamo parlato la televisione tutto e l'8 di settembre la palla non è caduta, sono diventato testimonial di questa squadra, sono molto contento di appartenere a una squadra che veramente mi fa felice. In chiusura perché abbiamo proprio due minuti, non di più per chiudere, quanto diventata importante anche per te la fede, tutte queste frequentazioni ma quel Dio che pregava tua madre, che anche tu pregavi, che poi ti ha recuperato degli inferi dove ti trovavi diciamo così. È stata fondamentale, è stata fondamentale perché io ripeto per più di dieci anni ogni domenica leggevo il salmo responsoriale dentro il manicomio criminale di Reggio Emilia, ho tanti amici preti, sacerdoti, adesso per dire sono finito anche questa nazionale e la fede mi ha, perché comunque da piccolo sono sempre andato a messa, poi ho perso la strada, l'ho ritrovata e anche questo miracolo di far parte in questa squadra e ripeto siamo arrivati all'incontro di Zola tramite veramente la nazionale del ministro Moreno Buccianti e anche la nazionale delle suore calcio. Scusate, interrompo, hai rincontrato quella Zola che non pensava che a quel lontano momento eri lì per rapirlo. Noi dobbiamo fermarci qua, ricordo il tuo libro Nel carcere dei matti delinquenti, storia di Fabrizio Maiello per conoscere molto di più la tua storia e poi il docufilm senza volto, storia di Fabrizio Maiello. Chi è interessato diciamo a rimanere aggiornato su di te e magari anche coinvolgerti per qualche testimonianza naturalmente può farlo contattandoti immagino anche sui social. Grazie, grazie a tutti voi, grazie a tutti voi.